bentornati a tutti i miei amici dei social un nuovo appuntamento con il sommelier del cibo con un abbinamento oggi fantastico l'ambinamento fantastico è pomodoro in duia si per creare un primo piatto davvero molto particolare e si può aggiungere un terzo ingrediente che ci sta ben issimo e sto parlando della cipolla rossa di tropea mi raccomando quando preparate questo piatto prima fate soffriggere la cipolla e la unite al pomodoro e poi successivamente a freddo quando fate a mantecare a freddo quindi a fornello spento aggiungete l'anduia perché l'anduia non si cuoce bisogna sempre utilizzarla a freddo così da avere i suoi odori i suoi profumi i suoi gusti perché l'anduia di spilling è eccezionale tutta da provare quindi mi raccomando provate anche questo altro abbinamento che vi ho proposto e a me non mi resta che darvi appuntamento al prossimo abbinamento con il sommelier del cibo ciao a tutti a proposito andate sui miei social mi raccomando mettete mi piace ciao